Buongiorno, ben ritrovati ai telespettatori, ben trovati a questa edizione delle 14 del TG6. Apriamo con la cronaca in primo piano, 6 milioni di profitti illeciti, la metà dei quali finiti in un conto per il trading di Bitcoin in Lituania che è stato congelato dalla Guardia di Finanza di Pescara. Si fa alto il livello di attenzione sul mondo delle criptovalute molto utilizzate accanto agli strumenti tradizionali del riciclaggio. I dettagli nel servizio di Andrea Costantini. Un conto corrente in Lituania adibito al trading di Bitcoin è stato congelato per un importo di 3 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Pescara in una operazione coordinata dalla Procura della Repubblica Pescarese e con la collaborazione di organi collaterali esteri per il tramite di Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea. Un conto corrente che era diventato una sorta di lavanderia di rendite illegali dove sono confluiti milioni di euro che sono profitti illeciti di una imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato dal 2015 al 2020, una truffa transnazionale sul mercato europeo con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti per la compravendita di auto di grossa cilindrata stimato attorno ai 53,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Pescara si era già concentrata sul sodalizio criminale responsabile che era stato indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale delle Riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati confermando il sequestro di ville, auto di lusso, orologi preziosi, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie con un bottino accumulato di 6 milioni di euro, la metà dei quali, dalle risultanze delle indagini delle fiamme gialle, finita nel conto corrente lituano finalizzato al trading di bitcoin. Il mondo delle criptovalute è sempre più utilizzato per il cosiddetto wash trading, accanto agli strumenti tradizionali del riciclaggio, poiché il denaro virtuale garantisce anonimato, come il contante, e immediatezza e ribasso dei costi di transazione, come la moneta digitale. Soprattutto la sua circolazione sul web non avviene tramite l'intermediazione di un ente centrale, quale una banca governativa. Uno scenario che potrebbe mutare il prossimo 18 maggio, da quando sarà disponibile il registro degli operatori in criptovalute presso l'organismo degli agenti e mediatori. Un uomo di 60 anni è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla Maiella, nella zona di Passo San Leonardo. I due escursionisti si trovavano nei pressi di Rava Giumenta Bianca, quando, stando a una prima ricostruzione, il sessantenne sarebbe precipitato per alcuni metri. Sul posto, per le operazioni di soccorso, si trovano ancora i sanitari del 118, con l'ausilio di un elicottero e le forze dell'ordine. Voltiamo pagina, ora parliamo di sanità. Tra i punti bocciati dal tavolo di monitoraggio della sanità, anche i punti nascita della nostra regione. Per i gruppi di opposizione è un clamoroso fallimento dopo i proclami della campagna elettorale. Stefano Recanati. Nonostante la campagna elettorale del centrodestra sia stata tutta incentrata sui punti nascita, in 38 mesi di governo emerge clamorosamente il loro fallimento su un tema, preso in carico evidentemente solo per motivi elettorali. La denuncia arriva dai consiglieri regionali di centrosinistra. Sul Sulmona non hanno fatto nulla per rispettare quanto previsto dalle dergue per i punti nascita sotto i 500 parti. Ci sono incertezze sugli standard di Pescara e l'Aquila e sui mancati investimenti per gli organici a Pescara e Santomero. Richiamati dal tavolo e all'appello manca ancora il quadro su vasto. Avrebbero dovuto mandare al Ministero quelle che erano le integrazioni, cioè i vari adempimenti che dovevano essere fatti sui vari punti nascita della regione Abruzzo. Questo non è mai accaduto. In realtà si sono vantati in campagna elettorale di averlo fatto dicendo che erano salvi i punti nascita, ma ad oggi non sono salvi per niente. Faccio l'esempio, quello di Sulmona, purtroppo il punto nascita di Sulmona è ancora fermo. Dovevano attivare l'elisoccorso, non è stato attivato. La stroke unit è ancora ferma, per cui purtroppo siamo ancora appesi a un filo di lana, cioè è possibile che la deroga non venga più concessa. Forti anche i dati sull'arruolamento di personale. I lavoratori assunti a tempo determinato passano dai 712 del 2019 ai 1554 del 2020, con una previsione di 2040 del 2021. Scendono progressivamente quelli a tempo indeterminato, passati da 13.712 del 2019 ai 13.659 del 2020, con previsione di arrivare a 13.555 per il 2021. Sono stati invece 1.391 i contratti cessati nel 2020 e 1.486 per il 2021. Manca una strategia virtuosa, dicono i consiglieri, perché si spendono soldi e non si risolve il grosso problema della precarizzazione. Sì, la carenza di personale è incredibile. Su tutti quanti gli ospedali, su tutti quanti i vari reparti, purtroppo vengono fatti avvisi. Questi avvisi non vengono assolutamente presi in considerazione, perché oramai la nostra sanità e i nostri ospedali non sono funzionali e quindi non sono neanche appetibili. Rimaniamo in argomento. Affrontare i problemi urgenti della sanità a Chieti. Il consigliere comunale Bruno Diorio torna a chiedere una maggiore attenzione da parte della Commissione Sanità per i problemi legati alla pandemia, ma anche e soprattutto per le emergenze sanitarie a Chieti. Sentiamo. Dopo due anni di emergenza Covid, allarmano i dati che vedono il contagio in risalita nella provincia di Chieti e in città. Ma non è questa l'unica criticità da affrontare. Purtroppo constatiamo che davanti a due anni di emergenza sanitaria, come quella della pandemia Covid, e soprattutto a una situazione sanitaria globale nella città di Chieti, che è quella della mancanza dell'attivazione delle UCCP per l'assistenza territoriale e la medicina generale, oppure dell'ospedale clinicizzato Colle dell'Ara che sta subendo delle regressioni sotto l'aspetto scientifico, culturale, di valenza a livello regionale notevole. Sono argomenti che sarebbero potuti essere affrontati sicuramente in Commissione Sanità, ma anche nel Consiglio Comunale. Quali sono le criticità che vengono messe più in luce? Se vogliamo parlare delle liste d'attesa non ne finiamo più. La primaria è fondamentale se non arriviamo a fare una diagnosi, perché le liste d'attesa sono lunghe, le patologie croniche evolutive o comunque anche le patologie acute, quando le facciamo affiorare. Quindi c'è una mancanza di assistenza sul cittadino. Abbiamo un ospedale che potrebbe essere invidiato da tutta Italia, ma è fermo totalmente e non ci si può trincerare dietro il discorso Covid, perché qui manca proprio il personale, i concorsi ospedalieri, ma perché non vengono istituiti? Noi medici di medicina generale quando richiediamo un esame non sappiamo a chi rivolgersi. E' chiaro che dopo prolifera il privato e si entra nel discorso privato-pubblico. Altro problema da risolvere della sanità a Chieti rimane la PET-TAC, che consente l'indagine diagnostica di alto livello per definire l'evoluzione tumorale delle metastasi. Al momento per fare una PET-TAC bisogna approfittare del furgone con il macchinario all'interno che viene a Chieti due volte a settimana. Se noi dirottiamo all'estero, quindi andiamo fuori regione o fuori provincia, è chiaro che perdiamo un indotto che avrebbe potuto comunque arricchire la nostra città, consideriamo tutto l'indotto della famiglia, chi viene, permanenza a Chieti, quindi c'è anche un movimento economico che viene meno. Ma al di là di questo, come medico, mi tiene a precisare che perdere tempo non è possibile per questi pazienti. La PET-TAC abbiamo la possibilità di intanto insediarla, perché se parliamo con i responsabili della medicina nucleare ci dicono che c'è anche fisicamente il locale dove allocare la PET-TAC. Si sta aspettando il discorso futuro del PNRR che consentirebbe di costruire una nuova palazzina su cui dedicare la PET-TAC, ma al momento, se viviamo di promesse, credo che rimaniamo ancora fermi nel tempo. Inaugurata questa mattina a Teramo la nuova officina farmaceutica dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise. Si tratta di una struttura altamente tecnologica in grado di produrre milioni di vaccini, antigeni e reagenti da mettere a disposizione del Ministero della Salute italiano e di altri paesi stranieri. Tania Bonici-Castelli. Un giorno importante per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, inaugurata la nuova officina farmaceutica intitolata al compianto veterinario Bernardo Di Emidio. Una struttura straordinariamente tecnologica in grado di produrre milioni di vaccini, antigeni e reagenti da commercializzare nel paese e all'estero. Un'eccellenza in Italia, un'unicità, l'IZS Teramano diretto da Nicola D'Alterio. Noi producevamo già dei presidi diagnostici e oggi riproduciamo secondo i migliori standard imposti dai regolamenti internazionali che tengono presente la sicurezza dei lavoratori e anche la qualità del prodotto e la standardizzazione dei processi. Cosa producete? Noi produciamo fondamentalmente due prodotti che andiamo a produrre e distribuire sul territorio del paese per conto del Ministero della Salute e sono l'antigene unico a Rosa Bengala da utilizzare per la diagnosi della brucellosi nei bovini, ovicaprini, bufali e la tubercolina che invece viene utilizzata per la diagnosi intradermica della tubercolosi nei bovini. Oltre a questi, all'occorrenza possiamo produrre vaccini antibrucellari, altri antigeni diagnostici, insomma un bel panel di prodotti. L'inaugurazione dell'officina farmaceutica è stata anche l'occasione per scoprire il busto in bronzo di Antonio Dionisi, illustre scienziato e medico terramano dell'Ottocento, al quale è dedicato invece il nuovo parco verde realizzato recentemente nella sede di Campoboario, uno spazio verde attrezzato per una pausa ristoratrice a servizio del personale dell'Istituto. Una mia presenza soprattutto per testimoniare la mia gratitudine e la mia stima all'operato dell'Istituto in questo periodo specialmente della pandemia, dove c'è stato un ottimo contributo sia per la possibilità di eseguire i tamponi, ma soprattutto anche per il discorso del sequenziamento. Attraverso il loro lavoro siamo tra le prime regioni ad aver messo in atto la procedura dei sequenziamenti e quindi un fiore all'occhiello a livello nazionale. Torniamo a occuparci di risorse idriche in vista dell'estate, l'acqua c'è ma si rischia la turnazione. Bilancio di fine mandato per il Presidente di Sasi basterebbe che dovrebbe essere di confermato per altri tre anni. A margine dell'incontro il Presidente ha fatto anche un punto sulle problematiche legate proprio alla carenza idrica in regione. Giuseppe Dintino. Le ultime precipitazioni garantiranno l'acqua per l'estate, ma rischiamo di dover nuovamente tornare alcuni comuni. A dirlo il Presidente di Sasi S.p.A., la società acquedottistica, che rifornisce 87 comuni, tra cui Lanciano, Vasto e Ortona. Cioè 30 comuni per un totale di 30.000 utenze venivano privati l'acqua nelle ore notturne. Da 10-15 giorni le nostre sorgenti erano ritornate al massimo e quindi si è interrotta questa turnazione. Oggi il responsabile mi dice che c'è rimasta a disposizione un solo pozzo. Cioè noi oltre alle 1.270 litri che ci dà la sorgente del verde abbiamo quattro pozzi a disposizione per un totale di circa 300 litri al secondo. Oggi un pozzo di queste e quattro è l'unica ancora che non viene accesa. Quindi si ricorre il rischio, se non succede qualcosa di nuovo, di dover tornare a tornare una serie di comuni. Il problema però, che riguarda anche le altre società acquedottistiche, è che oltre la metà dell'acqua va persa nelle vetuste reti idriche. Secondo l'Istat il record di spreco tra i capoluoghi di provincia nel 2020 è di Chieti, dove alle case non arriva quasi il 72% dell'acqua. E la situazione nell'Abruzzo meridionale non è molto migliore. Siamo al lavoro per individuare le perdite nei centri storici, ha detto basterebbe. La regione invece sta elaborando un progetto finanziato col PNRR, che secondo il Presidente di Sasi non andrà in porto. La regione ha deciso di fare un proprio, di non delegare i gestori, ma di fare un proprio progetto. Noi riteniamo che è sbagliato, visto da parte nostra. Va bene quello regionale, può anche continuare ad essere progettato, ma riteniamo che vanno gestiti anche i gestori, che finanziamenti possono essere più di uno anche all'interno della stessa regione. Intanto il 4 maggio Sasi dovrà approvare il bilancio e sarà eletto il nuovo Consiglio d'amministrazione. Basterebbe, al termine di due mandati, potrebbe essere confermato per ulteriori tre anni. All'indovani dello stop momentaneo da parte del CDA di Ambiente alla realizzazione del biogas, il Movimento 5 Stelle continua a battagliare sulle modalità di realizzazione dell'impianto che dovrebbe sorgere sui terreni del comune di Città Sant'Angelo. Sentiamo. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara, a distanza di qualche settimana, sono tornati a criticare il progetto riguardante la costruzione di un impianto biogas nel Pescarese. Lo hanno fatto all'indomani dell'Assemblea dei Soci di Ambiente SPA, la municipalizzata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. I pentastellati, dopo aver reso noto che il progetto originario è stato congelato dall'Assemblea dei Soci di Ambiente, hanno criticato l'Aggiunta Masci, l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco, per il prestito richiesto alla BEI, la Banca Europea Investimenti, per un importo di 15 milioni di Euro. Sì, oggi infatti siamo qui a prenderci una volta tanto qualche merito rispetto a un grave pericolo scampato per le tasche di tutti i cittadini di Pescara e non solo. Quindi per il momento questo progetto non si fa a queste condizioni e finalmente anche i sindaci sono andati in quella sede per far capire che era un progetto che con 30 milioni di Euro ci avrebbe legato mani e piedi ad un accordo che faceva soltanto gli interessi del privato. Ci si preoccupava soltanto di far recuperare soldi al privato e lasciare ogni futuro incentivo statale per la produzione di biometano direttamente al privato. I pentastellati confermano comunque il loro sì alla centrale del biogas. Il tema di fornire anche la provincia di Pescara con un impianto di questo tipo non è stato mai messo in discussione neanche dal Movimento 5 Stelle. Ora è chiaro che dopo un risultato di questo tipo, una sconfitta così pesante per l'ambiente e per questo progetto, sia la governance di ambiente, sia l'assessore di Pescara Isabella del Trecco che ha la delega ai rapporti con l'ambiente S.P.A. dovrebbero spiegare per quale motivo un progetto di questo tipo non è stato fatto gratis accedendo alle linee di finanziamento del PNRR. E quando si parla di violenza sulle donne la cultura parte anche dalle scuole. L'Ipsias di Marzio Michetti di Pescara ha dedicato questa mattina un convegno proprio al tema. Cortometraggi e rappresentazioni per sensibilizzare i ragazzi su una problematica che ultimamente occupa le cronache sempre più spesso. Secondo il rapporto dell'OMS, la violenza contro le donne rappresenta un problema di salute e di proporzioni globali enormi. In Italia i dati stat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Numeri che l'Ipsias di Marzio Michetti vuole provare ad invertire sensibilizzando i propri alunni con un convegno dal tema Un altro mondo è possibile, impariamo ad amare. È una tematica a cui i ragazzi non sono del tutto preparati ancora. È ovvio che riguarda la violenza in generale, ma dando uno sguardo particolare alle ragazze a volte sono ancora così ingenue, così sprovvedute di fronte a certe situazioni che sembra quasi imbarazzante perché non è più possibile al giorno d'oggi con tutto ciò che vediamo. Ogni scelta può essere fatta, ogni scelta va bene, ma va fatta consapevolmente e con il rispetto di se stessi, che è la prima cosa. Andare a lavorare sulla prevenzione e la sensibilizzazione diciamo che è il nucleo centrale del nostro lavoro. Noi lavoriamo molto sulla riparazione del danno, prendendo le donne in carico, ma è centrale questo discorso di sensibilizzare le nuove generazioni per aiutarle a riconoscere preventivamente quelli che sono i segnali della violenza di genere. Il convegno prende il titolo da un cortometraggio realizzato dagli alunni della classe quarta A con il coordinamento della professoressa Ilaria Fagnani, docente di psicologia generale applicata. I ragazzi fanno tanta difficoltà a distinguere questi piani di comunicazione e a distinguere queste modalità, quindi erroneamente credono e sono portati a credere che l'arroganza, la prepotenza, il sopruso diventino e siano condizioni di diciamo normalità. La giornata si è chiusa con la performance teatrale degli studenti della classe seconda B, con la lettura espressiva del testo poetico Quel Posto Buio. È stato un momento importante per le donne che hanno prodotto questi elaborati perché hanno dato la capacità di tirare fuori quello che è questo vissuto doloroso e violento ed è stato importante per i ragazzi perché hanno toccato realmente con mano quello che è il fenomeno della violenza di genere. Dal 30 aprile al 29 maggio sei comuni tra Abruzzo e Molise saranno protagonisti con il Festival del Bianconiglio, eventi educativi per arricchire la sfera culturale e umana dei più giovani. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha segnato profondamente l'universo dell'infanzia e della preadolescenza. Secondo i dati rilevati dall'autorità per le garanzie nella comunicazione Agicom, durante il periodo di emergenza una parte consistente degli studenti è stata tagliata fuori dal processo educativo. Il 12,7% degli studenti, circa 1 su 8, non ha ossufruito della didattica a distanza. Il digital divide ha costituito un limite severo nel processo formativo di bambini e ragazzi ed un inasprimento delle disuguaglianze culturali e sociali nella popolazione. Anche l'indagine Aspetti della vita quotidiana di Istat nel 2019 indicava che in Italia il 12,2% dei ragazzi 6-17 anni viveva in famiglie senza un PC o un tablet, con divari sensibili tra Nord 7,5% e Sud 19%. Ricreare poi quella che sia la vera rete, la socialità, l'umanità, il confronto, anche perché abbiamo visto purtroppo che vi sono manifestazioni ovviamente di violenza tra gli stessi giovani. Noi adulti guidiamo i nostri ragazzi, siamo l'esempio, dovremmo essere la luce, è quello che va a incidere nella loro formazione. Io credo che ad oggi proprio questi ragazzi abbiano bisogno dell'autorevolezza di noi adulti. ACS Abruzzo, circuito spettacolo, impresa sociale, in sinergia con l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, intende rispondere alla esigenza di ricondurre alla socialità gli individui, con associazioni ed enti culturali che operano sul territorio locale e regionale, al fine di costruire un'offerta educativa e formativa incentrata sulle metodologie e le pratiche dello spettacolo dal vivo. Noi quindi promuoviamo tutto ciò che sia un'attività di socializzazione, socializzazione dal vivo e quello proprio di incrementare nell'ambito della nostra regione proprio l'approccio a quello che sia il teatro, la recitazione. La rassegna Bianconiglio si articolerà in un cartellone ricco e coinvolgente con protagoniste e compagnie di alto valore professionale riconosciute a livello nazionale. Le città interessate sono Terramorso, Ogna, Lanciano, Vasto, Termoli e Castel di Sangro. Il messaggio è quello di cercare di far tornare i ragazzi a vivere un luogo che è per eccellenza della socialità, quindi i teatri, gli spazi teatrali e incentivare così un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di partecipare dopo i difficili anni del Covid, della pandemia. E a proposito di Bianconiglio c'è uno spettacolo che promette emozioni forti e suggestioni narrative. Al Marruccino domani Alice, lo spettacolo dell'attrice e regista Veronica Pace, andrà in scena un'elegea d'amore e di bisogno. Andrà in scena venerdì 29 aprile al Marruccino lo spettacolo Alice, liberamente tratto dal libro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Una produzione dell'associazione teatrale Shakespeare in Sneaker. Uno spettacolo dal forte impatto visivo, scenografie ridotte al minimo per lasciare che siano le performance a riempire la scena, luci, colori e intensità che conferiscono un maggiore impatto narrativo. La sensazione di precarietà, incertezza, paura e claustrofobia che ha investito il mondo ha sicuramente contribuito alla stesura di un'opera drammaturgica a tratti estenuante in cui il dissidio umano e lo sconforto la fanno da padrone. Pur essendo uno spettacolo psicologico e sociale, Alice è anche e soprattutto un'elegea di rivalsa, una poesia delicata d'amore e di bisogno. Liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Carroll, ma riadattato, tanto che la mia Alice è ambientata in manicomio e lei è affetta da un disturbo dissociativo dell'identità. Il cappellaio matto è affetto dalla sindrome di Tourette, quindi ogni personaggio ha un contraltare nel mondo reale e quindi rivisto in un'altra dimensione, diciamo che vengono acuite tutte quelle patologie che se uno leggesse il libro di Carroll a livello psicoanalitico verrebbero fuori. Da dove nasce l'idea di dedicare proprio una stesura di un'opera teatrale a una storia così conosciuta? Mi piacciono le sfide, mi interessava appunto lavorare sulla diversità, sulla malattia e diciamo che il periodo di lockdown, di paura, di confinamento a livello globale mi ha portato quindi a fare i conti con le paure profonde e mi ha suggerito questo testo. Ma per il tema trattato e il linguaggio utilizzato lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni. Dobbiamo senz'altro avvicinare i giovani al mondo del teatro, del nostro teatro e quale migliore occasione che una produzione così importante di una teatina doc come Veronica Pace con degli attori teatini che recitano per uno spettacolo che sta facendo il giro dell'Abruzzo molto apprezzato e che quindi era giusto che avesse come tappa importante anche il nostro teatro marrucino. E dopo il teatro passiamo alla pagina sportiva. In vista della gara playoff di domenica con la Carrarese, il tecnico del Pescara Luciano Zauri deve sciogliere dei dubbi in difesa vista l'assenza di Frascatore e la condizione precaria di Drudi. Non si prevedono sorprese a centrocampo e in attacco. Andrea Costantini Prosegue la marcia di avvicinamento al primo turno di playoff. Domenica alle 16 il Pescara ospiterà la Carrarese e avrà due risultati su tre a disposizione in una partita nella quale non si andrà ai supplementari. Chi vince passa, in caso di parità avanzerà il Pescara meglio classificato. Quella dei Biancazzori sarà la prima partita tra le tre del Girone B. Alle 17.30 al Barbetti si disputerà Gubbio Lucchese, alle 18 al Del Conero, Ancona Materica Olbia. Non la prima gara in assoluto, visto che i playoff saranno aperti alle 14.30 dalla gara Lecco-Propatria nel Girone A. In caso di avanzamento al secondo turno l'avversario dipenderà proprio dalla gara di Ancona. In caso di passaggio della squadra di Colavitto saranno i Dorici. In caso di blitz dell'Olbia al Pescara andrebbe la vincente di Gubbio Lucchese. Per il match di domenica le incognite principali che ha Luciano Zauri sono in difesa. Frascatore non ci sarà. Enzita contro Limolese non ha convinto in pieno. Il terzino belgo-congolese continua a mostrare amnesie e distrazioni che possono essere tanto più deleterie in una gara secca. E in fase offensiva, dove dovrebbe dare il meglio, non fa la differenza. E allora Zauri potrebbe tornare ad un'altra scelta auteriana. Veroli, quarto di sinistra, anche perché Rasi non gioca dallo scorso 6 febbraio e da allora ha collezionato 13 panchine e una non-convocazione. Mirko Drudi è superato l'affaticamento muscolare e allora sarà impiegato subito, con rischio di una ricaduta, o sarà preservato in vista dell'eventuale turno successivo? Il Lanes è in buone condizioni e sembra dare adeguate garanzie. È dunque in piena corsa per un posto da titolare al fianco di Ingrosso. A destra è pronto al rilancio Davide Zappella, dopo il guai alla spalla riportato a col grosseto ma riassorbito a tempo di record. Per il resto, a meno di problematiche dell'ultima ora, non ci dovrebbero essere particolari sorprese? Pompetti, che fa lì il rigore nella gara d'andata e segnò il gol del momentaneo pari nella gara di ritorno di campionato contro i marmiferi, Pontisso e Derisio agiranno a centrocampo, davanti Dursi e Clemenza con il bomber Ferrari. Nella Carares ci saranno un paio di assenze pesanti, la mezzala Figoli e il terzino Mancino Imperiale. Al posto del primo spazio all'esperto Pasciuti, che competerà il reparto con il promettente Battistella, mezzala in gola all'andata, sette le reti, miglior marcatore dei marmiferi e uno tra Foresta e l'ex Berardocco. In difesa toccherà a Cailoti a sinistra, davanti Bramante, alle spalle di altri ex che non hanno lasciato il segno in rival adriatico, Dumbià, che è stato nelle giovanili biancazzurre, e Giannetti. Dirigerà Paolo Bitonti di Bologna, che non ha precedenti col Pescara, ne ha quattro con la Cararese, mai vincente, tre pareggi e una sconfitta. E nel recupero della venticinquesima giornata il Pineto ha pareggiato uno a uno sul campo del Vasto Girardi. La squadra di Amaolo si tiene a debita distanza dalla zona pericolosa e si porta a un punto dal quinto posto. Per il recupero della venticinquesima giornata all'Alditella, il Vasto Girardi ospita il Pineto. Mister Prosperi schiera guida in appoggia da Laggia. Pineto allenato da mister Amaolo, che risponde con il rea dietro il duo Romano Galeano. Aip del signor Marco Russo, transizione di torre annunziata. Dopo i primi dieci minuti studio si arriva al quattordicesimo. Assis perfetto con l'esterno di Minincleri per il colpo di testa di Romano e nel contratempo 0-1 ospite. Nulla da fare per Distazio, minuto 24 risponde il Vasto Girardi. Contropiede ben orchestrato da Laggia, larga per guida, ma il dieci di casa, calcio di punta e palla altissima sopra la traversa. Passo un minuto, brividi per il Vasto Girardi, sinistro a giro di poco alto di Della Quercia. Minuto 33 annullato questo gol a domizzi per fuorigioco, ben servito da Barlafante. Il dubbio rimane. Trentasesimo, grandesto di Race che sibila il palo. Passo un minuto, Alaggia pareggia i conti, bravo in area a trovare il corridoio giusto per bucare Marco Relli. E l'ultima emozione del primo tempo, 1-1. Con le mangi da Bertopetutti passiamo alla ripresa, secondo tempo Kenisa sulla falsa riga del primo. Con le squadre che giocano molto al centrocampo, con le occasioni da rete rarissime. Il primo tiro in porta arriva al 29esimo ed è di Delpineto. Barlafante dialoga bene con il neentrato del masso sinistro di quest'ultimo fuori. Alla destra di Distasio, 1-33, piazzato di Minincleri. Sinistro a giro che termina di pochissimo alto dopo la traversa. Partita che scorre senza sussulti dopo 4 minuti di recupero. Russo fischia la fina e 1-1 tra Vasto Girardi e Pineto. Risultato giusto. Alto molisani che salgono a quota 40 punti. Si preparano a tutte le forze delle prossime partite. Domenica trasferta a Montegiorgio. Poi mercoledì, 4 al Ditella, arriva la capolista di Canatese. È tutto per questa edizione che si conclude qui. L'appuntamento col TG6 torna questa sera alle 19. Vi ricordo che i contenuti del TG sono anche consultabili sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.